Scusate, squisite, e adesso mescolate il tutto. Una polenta cremosa è ben amalgamata. La polenta si può mangiare in due modi, o così appena cotta come una sorta di purema foroso, oppure lasciata riposare e poi grigliata, quello che sto per fare, pogliare una teglia e versare la polenta. Allora mettete l'entrido a riposare.